oggi vi racconto la storia di un pilota di altri tempi però comunque un pilota che è stato talentuoso e senza dubbio promettente con questo nuovo argomento io appunto oggi vi racconto la storia di françoise per pilota francese naturalmente potrete notare da nome che ha scritto un pezzo di storia della formula 1 non tutta perché ovviamente ci sono stati altri piloti che l'hanno scritta ma non come lui che lui però l'ha scritta al modo suo praticamente in questo sport bene ragazzi quindi bentornati sul canale della formula 1 questo nuovo argomento quindi come sapete ve l'ho già detto oggi racconto la storia di questo pilota la vita e carriera di questo famigerato pilota famigerato per chi allora cioè negli anni 60 70 seguiva la formula 1 poi oggi magari non è molto non è così conosciuto comunque partiamo dal dall'inizio da quello che riguarda ovviamente l'inizio della sua vita ovvero il fatto che nacque nella parigi del 1944 quindi nel corso della occupazione nazista perciò in un tempo ovviamente a quanto complicato il padre charles goldenberg era chiaramente un ebreo come si può anche notare dal nome un ebreo nato in russia e fuggito con la sua famiglia nella capitale francese goldenberg lavorava come gioiellieri e all'inizio degli anni 30 si era sposato con huet sever parigina da cui ebbe appunto tre figli e appunto i figli presero il cognome non dal padre perché chiaramente era di origine ebraica ma dalla madre gli ultimi due quindi nacquero in una parigi che era squinvolta da questa invasione invasione da parte della germania di hitler e per evitarne come ho già detto la persecuzione presero il cognome della madre e tra questi figli infatti c'era anche francois poi arriviamo quindi all'ingresso nel mondo dei motori di sever che perciò l'interesse verso i motori del parigino è cresciuto tra l'altro in una famiglia benestante gli ha permesso un'ottima istruzione e nasce questa passione questo interesse grazie alla sorella maggiore jacqueline che si fidanza con jean pierre beltoise motociclista e anche pilota di formula 1 successivamente è il 1964 quando beltuasco è un buon sesto posto nella 50 cc del mondiale motociclismo e matura già un passaggio nell'automobilismo sever decide nello stesso anno di iscriversi a scuola di automobilismo nel circuito di montlery vicino parigi e via poi in un'altra fase della sua vita la fase dei primi successi nella sua diciamo carriera quindi nel 1966 sever conquista il prestigioso volant shell battendo un'altra giovane promessa dell'automobilismo francese patrick de paillers il premio un'intera stagione sponsorizzata nel campionato francese del 67 per la formula 3 al volante di un alpine renault l'anno dopo si lega al team techno con cui vince il titolo nazionale tra l'altro nel 1969 la techno promuove sever in formula 2 ed esordisce ad okenheim al circuito di okenheim piazzandosi in nona posizione conduce un'intera stagione positiva e cogliendo il terzo posto al gran premio di enna la brillante stagione quindi è corredata dalla vittoria del gran premio di reim 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 gara che non era comunque inclusa nel campionato a quell'epoca francese quindi oltre ai successi automobilistici è persona di incredibile fascino come potrete notare infatti vedendo sue foto se lo andate a cercare ha studiato 12 anni al conservatorio e suona il pianoforte poi oltretutto a parte cioè oltre a questo guida personalmente un aereo privato e ha uno sguardo così intenso da aver stregato come si vociferava a quell'epoca addirittura brigitte bardo queste doti quindi sono tali da fargli guadagnare il soprannome di françois il magnifico infatti era bisogna dirlo era un bell'uomo sicuramente poi si arriva al suo esordio in formula 1 per la stagione c'è stata la stagione formula 2 del 70 con la tecnica che conferma severa affidandogli la guida di una matra varie scuderie di formula 1 però hanno già notato il talentuoso francese l'obiettivo l'obiettivo di approdare appunto la massima categoria si concretizza poco prima di metà stagione con nazionale johnny servo gavin che corre per il team tirrell all'epoca utilizzava tra l'altro questa squadra ai telai marsh e motori ford quindi decide di provvisamente di tirarsi dopo il gran premio di monaco del 70 e venutasi così a trovare senza un pilota la tirrell sceglie proprio se per che per impiazzare il suo nazionale segnalare severa che in tirare il proprio jackie stewart nel quale stringerà una forte amicizia il 25 maggio appunto dello stesso anno l'occasione del diciottesimo london trophy di formula 2 severa ha dato diverso filo da torcere allo scozzese tanto che quest'ultimo ne era rimasto fortemente impressionato l'esordio sulla marsh della scuderia appunto tirrell avviene il 21 giugno del 70 nell'occasione del gran premio d'olanda a zandvoort la corsa si chiude per un guasto al motore al trentunesimo giro in effetti la marsh non dà il massimo dell'affidabilità purtroppo costringendo quindi il parigino al ritiro in altre tre gare nel 6 settembre il francese ottiene il suo primo e unico punto nel 1970 piazzandosi sesto al gran premio d'italia a monza si passa ad un'altra fase della carriera di severa soddisfatta delle prestazioni del francese la tirrell decide di confermarlo per il 1971 come gregario di jackie stewart infatti questa è la fase della sua conferma nella scuderia la squadra inglese è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni e per la stagione in corso non utilizza più telai comprati dalla marsh ma invece li costruisce in proprio l'obiettivo è la vittoria del mondiale piloti con lo scozzese compito di severa quindi è quello di aiutare il suo compagno nell'impresa potendo contare su una vettura altamente competitiva tra i due piloti quindi nasce una profonda amicizia stewart diventa una specie di maestro di severa dandogli ripetuti consigli aiutandolo molto per maturare le sue innate qualità praticamente si arriva al 1971 con l'avvio di stagione che non è dei migliori dove un incidente nell'esordio in sud africa e cioè in sud africa a kajalami sever si piazza soltanto settimo in spagna quindi si ritira altre due volte al gran premio di monaco e olanda anche in questi casi per per via di un incidente le cose cambiano però in occasione del gran premio di francia il 4 luglio il francese ottiene un positivo secondo posto alle spalle di stewart a quasi mezzo minuto di distacco nonostante fosse partito appunto dalla settima posizione sulla griglia di partenza è meno buono però il gran premio di gran bretagna il 17 luglio dove il francese arriva decimo il compagno di squadra non ha comunque problemi con la competitiva tirrell ford del 71 ed ottiene delle vittorie appunto in questa stagione la tirrell fa nuovamente doppietta nel gran premio di germania al nürburgring quindi stewart registra la pole position e vince invece sever lo segue lo segue quindi sempre con un distacco sui 30 secondi davanti ai ferraristi regazzoni e andretti nella stessa gara il francese fa registrare anche il giro più veloce nel successo nel successivo gran premio d'austria avviene la svolta della stagione quindi le tirrell manifestano problemi ai motori e sia stewart che sever sono costretti al ritiro ronny peterson con la sua marcia è l'unico sulla carta ancora in grado di superare lo scozzese arriva ottavo e per stewart la tirrell possono iniziare comunque i festeggiamenti parte del merito viene attribuito come sappiamo allo stesso francese sever che ha più volte aiutato il compagno di squadra data la vittoria anticipata del titolo da parte di stewart per sever si presenta l'occasione di mettersi in mostra nelle tre gare conclusive del campionato il 5 settembre nel gran premio d'italia a monza il francese ottiene un terzo posto seguito dal sesto nel gran premio del canada a most sport park due settimane dopo successivamente la stagione si chiude con il gran premio degli stati uniti al watkins glen di new york il 3 ottobre dopo che ha superato danny hulm stewart prende la testa ma al 14esimo giro lo scozzese lascia passare sever nel frattempo portatosi in seconda posizione il francese non perde più il comando nonostante i giri finali le good year montate sulla tirrell inizino a perdere grip e ottiene così la prima vittoria della carriera staccando joe siffer su brm e peterson di oltre 40 secondi la soddisfazione quindi del francese per il risultato è accompagnata anche dal premio di 50 mila dollari pensate sever quindi diventa il secondo francese che riesce a vincere un gran premio nella storia della formula 1 prima di lui l'unico transalpino a riuscirci era stato maurice strintinian vittorioso al monaco nel 55 nel 58 e quindi con 26 punti severo ottiene la terza posizione in classifica piloti alle spalle di stewart e peterson poi parte ovviamente la nuova stagione il 72 1972 con la tirrell che all'avvio della stagione si presenta con la stessa identica coppia di piloti dell'anno precedente stewart però stavolta un avversario difficile da battere per confermare il titolo ovvero emerson fittivaldi con la lotus l'avvio premia quindi stewart che si impone in argentina ma fittivaldi successivamente si riscatta andando sempre a podio nelle sei gare seguenti vincendone quindi tre e portandosi nettamente in testa in classifica la stagione difficile da tirrell è dimostrata anche dal difficile avvio di sever e nei primi quattro gran premi il francese vede la bandiera scacchi solo in sud africa quando arriva nono ritirandosi invece in argentina spagna in monaco un primo sussulto avviene il gran premio del belgio del 4 giugno quando il francese arriva a secondo alle spalle di fittivaldi e il 2 luglio severa di nuovo a punti in occasione del gran premio di francia dove invece arriva a quarto il proseguo di stagione è difficile per francese lo stretto altre tre volte al ritiro solo nell'ultimo gran premio al watkins glenn ottiene un altro podio frutto del secondo posto conquistato dietro a steward nell'unica doppietta tirrell della stagione per sever quindi il 1972 si chiude al sesto posto in classifica piloti con 15 punti vinta da fittivaldi su una lotus strepitosa che si aggiudica anche il mondiale costruttori la delusione quindi di severa è evidente il francese si consola solo con un prestigioso secondo posto alla 24 ore di le man ecco si arriva quindi ad un'altra stagione a 1973 e quindi promette il dualismo steward fittivaldi visto nella passata edizione il brasiliano vince il primo gran premio in argentina davanti a seder che è staccato di quattro secondi e arriva terzo invece steward a dimostrazione di gran livello raggiunto dalla scuderia inglese nella pausa invernale nelle posizioni di testa il duello è tra steward e fittivaldi sever si trova praticamente in lotta con peterson per la terza posizione le due carie seguenti sono deludenti per il francese che arriva a decimo in brasile e si ritira in sud africa il proseguo di stagione è tuttavia profigo per il francese per sever che tiene due secondi posti consecutivi spagna e belgio e giunge quarto a monaco e terzo al gran premio di svezia prima di conquistare un nuovo secondo posto in francia e un quinto in gran bretagna il francese grazie al fascino estetico e ai risultati sportivi conseguiti acquista fama a livello nazionale il 29 luglio coglie a zandvoort nel gran premio d'olanda un secondo posto un ulteriore secondo posto alle spalle di steward la gioia a fine gara viene però spessata dalla notizia della tragica morte di roger williamson quindi roger williamson alla cui marcia nel corso del settimo giro si capovolge e trascina per quasi 300 metri sul percorso e prende fuoco intrappolando purtroppo il pilota inglese nelle lamiere appena una settimana dopo la formula 1 si ripresenta in germania decorata doppietta tirrell con steward primo e sever subito dietro per lo scossese è il quinto successo stagionale che vale la matematica conquista del titolo il francese però si proietta nettamente sui piani alti della classifica contendendo la seconda posizione a fitti palli le successive due gare tuttavia non vanno secondo l'esito sperato il francese si ritira in austria in italia giunge invece solo quinto e fitti palli ottiene il secondo posto mentre una strepitoso peterson vince a zeldweg sarebbe in austria e a monza a questo punto il francese ha come possibilità di conquistare il secondo posto al fine di chiudere nel migliore dei modi una già ottima annata e si presenta determinato in nord america proprio al mosport park nel gran premio del canada rimane coinvolto al trentatresimo giro in un brutto incidente riportando una ferita ad una caviglia arrivando quasi alle mani con il sudafricano schecter la tirrell 006 è la pedaliera distrutta e viene fatta arrivare in aereo all'inghilterra una nuova vettura la 006 barra 3 giusto in tempo per il gran premio degli stati uniti al watkins glen quindi si tratta di una corsa in quale in precedenza ha già colto risultati positivi per la vittoria nel 71 e secondo posto nel 72 dualismo quindi ancora con peterson e il 6 ottobre i due ingaggiano a battaglia in prova per guadagnare la pole sever confidando anche nel nuovo telaio lancia la vettura in cerca del miglior tempo ma alle veloci esse nella parte iniziale del tracciato l'auto non curva andando a schiantarsi a più di 200 chilometri orari contro le vicine barriere metalliche e rimbalzando contro quelle dell'altra parte della pista dopo che l'avventura appunto si è capovolta e spessata a metà l'impatto per ciò è violento e l'entità del dramma viene subito percepita i primi che arrivano sul posto sono stuart schecter e anche carlos pace che capiscono che c'è ben poco da fare purtroppo i commissari di gara quindi trovano il pilota intrappolato tra i lottami dell'auto e spaziata appunto dal guard rail una delle ruote anteriori ha sfondato il casco provocandone purtroppo la morte istantanea il francese non viene neanche estratto subito dalla monoposto procedendo i commissari i commissari quindi procedono prima a disincastrare con carattrezzi l'avventura dal parapetto metallico questo purtroppo è qualcosa che succedeva succedeva quando come sappiamo la sicurezza non era ai livelli attuali nella formula 1 sono diciamo sono risultate ignote le cause dell'incidente michi lauda per esempio anni dopo suo libro spesse parlando dell'asfalto su cui françois è passato per una traiettoria troppo aggressiva a bordo pista altri invece attribuire una responsabilità ai postumi della ferita alla caviglia riportata due settimane prima era anche molto giovane come pilota ovviamente poi è stato compagno di squadra di steward e insieme hanno avuto una buona amicizia infatti in questo video ciò di cui si parla non è solo diciamo una scuderia storica la scuderia tirrell ma anche di due piloti in quella stessa squadra che erano anche molto amici steward e sever perciò c'è quella dose di amicizia in questa storia di cui ho parlato nel video e anche la lotta per il titolo con un pilota che appunto lotta per la loro editato e il suo compagno di squadra che lo aiuta che gli fa da gregario e lo aiuta nel modo nel modo giusto comunque questa è la storia che ho raccontato la storia di françois sever poi ovviamente porterò altri video altri argomenti quindi mandate tanti like come vi ripeto commentate se volete dire la vostra opinione su questo pilota su questo talentuoso pilota parigino e condividete iscrivetevi se non l'avete già fatto quindi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi